Convocato in via straordinaria e urgente il Consiglio Comunale a Giarre lunedì sera per votare il riaccertamento dei residui attivi e passivi. Passaggio fondamentale, peraltro richiesto dalla Corte dei Conti per continuare l'opera di risanamento che passa però anche e soprattutto dalla dotazione di tutti gli strumenti finanziari arretrati bilancio 2015-2016 e consuntivo 2015. Una situazione surreale che costringe l'ente Comunale a Giarrese a vivere un contesto sui generis in una situazione che vede l'amministrazione Danna affrontare le prime difficoltà anche in ambito politico. C'è il problema degli incarichi fiduciari e nonostante Angelo Danna non abbia mai nascosto di volersi circondare dei suoi fedelissimi nella gestione amministrativa parlando sempre del valore della squadra i problemi non stanno mancando. Ma tre giorni fa si è tenuta anche una riunione di maggioranza per chiarire alcune mancate comunicazioni tra giunta e consiglieri. Quest'ultimi vorrebbero maggiormente essere coinvolti nei processi decisionali e per questo hanno chiesto un confronto con l'esecutivo all'interno del Movimento Città Viva. Per Angelo Danna si è aperto indubbiamente un settembre difficile.